ciao amici di frapper.it oggi parliamo di un altro concetto molto importante che è la polivalenza ovvero la possibilità di andare a utilizzare oggetti e risorse in modi anche completamente diversi rispetto alla destinazione d'uso normale per cui questi oggetti sono stati concepiti è una qualità che un prepper deve avere per riuscire ad operare al meglio tutto quello che ha a disposizione facciamo un esempio stiamo facendo la nostra cena da prepper torno in scatola e all'improvviso black out da via la luce sareste in grado di procurarvi una fonte di luce a partire dagli oggetti che abbiamo a disposizione vediamo come grazie a tutti ed ecco fatto con quattro piccoli strumenti che solitamente un prepper del solito ha sempre in tasca siamo riusciti a trasformare una lattina di tonno in una lampada d'olio ovviamente il concetto di polivalenza non finisce qui perché in questo caso fortunatamente possiamo anche tornare indietro ovvero sia basta spegnere la nostra lampada a tonno potremmo chiamarla aprire la torretta e il tonno di per sé rimane completamente mangiabile capito del suo concetto vediamo domanda quando avremo finito il tonno cosa faremo butteremo via la lattina o no no tenetela perché vi servirà per il prossimo progetto alla prossima